un bentrovati a tutti cari amici e cari amiche oggi ho preparato per voi un video speciale il video dei 1000 iscritti al mio canale un obiettivo molto bello che ho ottenuto grazie alla vostra curiosità che vi ha spinti a conoscere ed esplorare il mondo della natura con i suoi colori grazie ai fiori ma anche grazie alle piante gli animali che la compongono questo video che seguirà la sigla di premia per la vostra cortesia e la vostra attenzione vai regia ho scelto appositamente di cominciare questo video di ringraziamenti partendo da questa barca che solca il mare ed è un'immagine suggestiva perché richiama un po ai grandi esploratori che hanno attraversato la nostra storia da Magellano a Cook a Cristoforo Colombo che hanno soccato i mari i mari della della conoscenza per incontrare nuove realtà per arricchire il proprio bagaglio per esplorare nuovi territori ed è la stessa curiosità che vi spinge a continuare a studiare e ricercare non solo materiali nuovi per poter produrre nuovi video ma anche per stimolare la vostra attenzione e la vostra stessa curiosità mentre parlo scurrono queste immagini che ho raccolto un po qua un po la nei vari viaggi che ho fatto nei vari percorsi che ho intrapreso in cui ho conosciuto bellissimi paesaggi bellissime situazioni tantissime piante molto belle fiori fantastici e tanti animali qui ad esempio mi trovavo a tenerife sul vulcano teide e chiaramente la natura riesce sempre a esprimere il massimo dei colori dei profumi degli aromi grazie ai suoi frutti che io considero veri propri diamanti ma in questi anni abbiamo visto anche tantissimi animali sto preparando per voi nuovi video per spiegarvi raccontarvi anche altri animali magari meno consueti meno abituali rispetto a quelli che si è soliti osservare e vedere nelle nostre città le nostre campagne e per terminare il video vi ricordate le occhiette che sono nate due anni fa ed eccole qua in questa foto bene oggi sono cresciute sono diventate avute ed eccole qua le stesse occhiette che hanno cambiato piumaggio dal giallo le loro piumina sono passate alle piume le piene bianche e hanno conservato una grandissima docilità che le porta a mangiare dalla mia mano questa ilbetta fresca che ho colto per loro io come sempre vi ringrazio per l'attenzione vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale se piacere questo tipo di contenuti di condividerlo con gli amici interessati a questi argomenti e vi ricordo che questo percorso che stiamo facendo insieme ci porterà molto lontano e continuerà ancora nel tempo e lo possiamo immaginare come una passaggiata fatta insieme tra di noi lungo un bellissimo viale alberato che ci dà proprio l'idea di come le cose poi devono fluire e devono continuare devono scorrere per poter portarci insieme molto lontano un abbraccio da mister green e a presto ciao a tutti 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 ciao a tutti